Situazione di potenziale pericolo all'asilo Baby Care in via della Libertà a Capannori. Le macchine sfrecciano, invitate dal rettilineo apparentemente privo di criticità. Ma qui c'è l'uscita di un asilo e c'è bisogno di qualcosa di più di un semplice segnale verticale di passaggio pedonale. La denuncia arriva da un gruppo di genitori dei bambini dell'asilo che un anno fa, con una raccolta di firme, hanno fatto presente la situazione suggerendo al comune alcuni interventi. Noi genitori in data 20 ottobre 2020 abbiamo chiesto in questo tratto qui di stare dove c'è l'attraversamento pedonale o un semaforo a chiamata oppure un dosso, di modo che le auto che transitano riuscissero a rallentare per evitare che noi genitori con i nostri bambini veniamo messi sotto dalle auto. Anche altri genitori confermano che la situazione è pericolosa. Purtroppo sì, ma continuamente, cioè si vive in un paese dove un attraversamento pedonale dovrebbe risolvere problemi, cioè c'è un attraversamento che problema c'è, in realtà se ti metti lì e aspetti che dici si fermerà qualcuno. No, impossibile. Insomma un semaforo a chiamata o un dosso, oppure una segnaletica più incisiva. I genitori attendono che il comune batta un colpo. I genitori attendono che il comune batta un colpo.